Cinque passeur arrestati in un mese, 28 emigranti trovati stipati fra bagagliai e vani di carico dei rispettivi veicoli. Il bilancio dell'attività della compagnia dei carabinieri di Aurisina e in particolar modo della stazione di Duino in ausilio alla polizia di frontiera nei pressi dei valici confinari del Carso. Il primo passeur di nazionalità serba è stato fermato a Fernetti alla guida di un'auto con targa slovena con a bordo quattro migranti turchi. Dinamica simile si è ripetuta pochi giorni dopo a Morrupino. In manette è finita una cittadina ucraina al volante di un veicolo immatricolato in Slovenia che stava trasportando cinque migranti tra cui una minorenne. Durante la stessa notte è stato fermato in un ulteriore controllo un autocarro telonato con targa polacca al cui interno viaggiavano nascosti ben dodici migranti irregolari di origine siriana tra cui una minorenne. Due camionisti finiti in arresto, un trentenne ucraino e un trentaquattenne moldavo. L'ultimo passeur finito nella rete dei controlli dell'arma è stato bloccato a Basovizza. Si tratta anche qui di un quarantaquattrenne ucraino. Viaggiava a bordo di un'auto con targa polacca e stipati all'interno in condizioni deprecabili trasportava una famiglia turca composta da sette persone. Tutti i passeur sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Trieste messi a disposizione dell'autorità giudiziaria e rischiano ora una pena dai due ai sei anni di reclusione sotto sequestro tutti i veicoli utilizzati. Grazie. Grazie.